Oggi ci troviamo nella discarica di Ciamo Ambiente che si trova a Cavenago di Brianza, nella Brianza appunto che è un'area fuori Milano riconosciuta a rivale internazionale per l'altra concentrazione di aziende e di attività industriali. La discarica di Ciamo Ambiente è stata aperta nel 1970 e il suo ciclo di vita è durato per 24 anni finché nel 1994 è stata chiusa. Da allora è cominciata una lenta trasformazione per trasformarla in un parco. Di fatto se oggi si arriva in questa località non ti aspetti che sia una discarica anche se a fine ciclo di vita. A tutti gli effetti è un parco naturale. Ha cominciato a ridursi nella produzione sia in termini di volume sia in termini di quantità di metano. Questo non ha più permesso da un certo punto in avanti l'utilizzo dei motori alternativi per cui il cliente ha valutato l'opportunità di installare una nuova tecnologia come capstone microturbine per riuscire diciamo a sfruttare fino alla fine vita di questa discarica biogas prodotto anche soprattutto anche in termini di bassa contenuti di metano nel gas. Una per quanto riguarda che la discarica si stava esaurendo e nell'esaurirsi la discarica la percentuale di biogas di gas all'interno del biogas scendeva sotto il 30%. Scendendo sotto il 30% il motore classic non riesce a partire mentre la turbina ha questo grande vantaggio che può funzionare con percentuali di gas molto basse. Il progetto finale è stato per l'installazione di 5 turbine modello C65 capsule da 65 kilowatt elettrici alimentate a biogas da discarica, un compressore, un sistema di compressione e trattamento del biogas e un sistema di recupero del calore degli esausti in uscita dalle turbine. L'energia elettrica viene utilizzata sia per i fabbisogni interni sia nel caso in cui non ci siano i fabbisogni interni la vendiamo. Tutto il calore, ciò che è importante non buttiamo via nulla perché attraverso uno scambiatore noi recuperiamo tutto il calore e durante il periodo invernale riscaldiamo tutto questo edificio. Durante il periodo estivo raffreddiamo tutto questo edificio quindi produciamo energia elettrica ma tutto il calore esausto lo riutilizziamo con un grande risparmio di energia. Questo impianto è in grado di recuperare sia energia, produrre sia energia elettrica che energia termica e grazie appunto al contenuto energetico del biogas in questo modo si ottene un'efficienza complessiva maggiore dell'80 per cento di recupero diciamo dell'energia prodotta con il biogas. Quindi una delle ragioni per cui il cliente Ciamo Ambiente di fatto ha scelto la tecnologia microturbina Capstone è proprio perché i limiti vigenti qui sono molto ristretti e le turbine Capstone praticamente hanno zero emissioni. Quindi il risultato è che adesso il parco naturale in cui ci troviamo è un parco clean and green quindi a zero emissioni. Personalmente sono molto contento di aver fatto questa scelta perché in realtà il mio lavoro è diventato anche più semplice perché c'è una bassa manutenzione e contento e soddisfatto della scelta.